L'amore arriva a dire una cosa, che io sono stato il primo e continuerò a essere il primo a condannare uno stupro. Non mettetemi in bocca parole che non ho mai detto. Io guardo i suoi social, io guardo anche i suoi social, è lo screenshot di tutto, di tutto. Sa perché? Perché sono una donna e sono una madre e se capita a mia figlia io la vengo a prendere per i capelli, ha capito? Perché se capita a mia figlia e c'è una persona che dopo che mia figlia ha denunciato, si permette di dire che mia figlia è una drogata, No, no, io urlo, urlo perché sono una donna, mi parte l'embolo e mi parte, che devo fare? Leali? Allora non si può stare perché sono in collegamento da Bali, non riesco a parlare Giletti. Parli, parli, parli. Adesso può parlare, Leali prego, può parlare adesso. Intanto la dottoressa De Girolamo è stata querelata quando io non sono nel coraggio indagato. Sì, anche lei, vado avanti. Non mi fa parlare, non mi fa parlare. Sì, è stato un po' parlato. Usciamo da queste querele. Se la vedono i magistrati quando parliamo i cipri, non riesco a parlare. Scusi, Leali, Leali. Non riesco a parlare, non mi fa parlare dottoressa De Girolamo. Però Leali, a me, del rapporto giudiziario tra voi, non mi interessa, io le sto chiedendo. Stia ai fatti. Mi dica. Cioè, lei, quella storia, sta un mese in quella villa Lolita. È l'uomo che gestiva le feste su piattazza sentimento. Non è un passante. Quelle ragazze le conosceva, le invitava, sapeva che si consumava droga. Non mi passi come un passante per caso. Era una vacanza di dieci persone che si conoscevano tra di loro. Se Alberto Genovese si ritira in stanza con una ragazza, ma mi spiega qual è la mia mancanza o cosa dovrei fare io se Alberto Genovese si ritira in camera sua con una donna. Lei è così informato da ricordare che la ragazza aveva avuto un rapporto con più persone contemporaneamente e poi dice, ma io non so se mi fermo dietro la porta. Lo sapevo, lo sapevo.